Ciao sono Fabio Abate, chef e titolare del ristorante Nuovo Nando di Brescia. Abbiamo riaperto rispettando tutte le norme in vigore per la sicurezza di Covid-19 in sala e in cucina e vi ricordo alcune nostre proposte estive come la coda di rosco alla catalana, la burrata con la pappa al pomodoro e il nostro risotto al timo limone e tartare di gamberi. Siamo aperti a coppie, famiglie, piccoli e grandi gruppi. Vi consigliamo di prenotare per poter soddisfare al meglio le vostre esigenze. Siamo aperti a pranzo e a cena tutti i giorni, eccetto la domenica. Un grazie da Fabio, buona giornata a tutti! Grazie a tutti!